come state? spero molto bene per questo video ci saranno un pochetto procedibile per oggi per il mio canale per i vostri scritti o per i vostri scritti che ci sono già mentre ci sono veramente un po' meglio e questo banco oggi voglio fare una box per me ho 10 stavo aspettando quindi non abbiamo visto la box perchè questo è il contenuto perchè l'ho ordinato e mi devo provo perchè mi saluto tantissimo ciao bravo mi ha detto che a volte non si sente bene quindi non è uno dei problemi quindi grazie molto ciao 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 Sì, 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 sì. ok Grazie. Grazie. Sì, questo credo sia l'attività. Non ci sono. Qui c'è il tasto. Non ci sono tutti. Questa il costri è l'acostico. Questa il costri è l'acostico. Questa è l'acostica. e poi anche qui e poi anche qui si è un po' di più è un po' di più e poi ciò è un po' di più e poi ciò è un po' di più qua che è un conto, sarebbe 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 veramente delle 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 cose . Grazie. che sto utilizzando per il video non quasi quali però e poi come ultimo il cavo per agganciarlo a tavo e tutto di fronte noi ragazzi ci salutiamo purtroppo ma ci vediamo nel prossimo video vi ricordo di iscrivervi qua sotto al mio canale e attivare da parte la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblici un nuovo video per questo video raggiungiamo i punti di like 20, 20, 20, like ricordo che iscriversi è totalmente gratuito e ditemi in un commentino qua sotto anche qui se vi piace il nuovo video vi provo grazie a tutti la cacola bravo di santa ciao bravo ciao Grazie.